Gentile dottoressa Deborah Seracchiani, chiedo a lei e al suo partito una nuova legge in materia di tirocini, affinché sancisca il diritto alla retribuzione ad ogni stegista italiano, uno stipendio da riconoscere a tutti gli stegisti affinché consenta a loro un'esistenza libera, dignitosa e autonoma dal contesto familiare. Grazie, cordiali saluti, Marco Patrono, Generazione P.